10, 5, 4, 3, 2, 1, via! 10, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 13, 11, 11, 11, 12, 13,Yeah! 왜 capazpage! Nel deep keeping Nel deep keeping Ok Ho perso il conto Quanti? 16 21 17 18 Wow Let's go Andrew 19 20 20 21 21 Forse l'ultimo 22 22 23 23 Grande No 4 25 25 Tu sei fatto Che cosa hai fatto Siamo a 1.57 26 Quanto sei Andre? 26 26 Quanto sei Andre? 23 2.30 Tieni gli anelli vicini, vicini ai fianchi, chiudo, non li aprire 25 25 25 25 26 26 26 27 27 29 28 28 29